Come Roberto Insigne e Luca Vigiani. La tripletta nel derby è un privilegio per pochi. Da ieri, nella speciale galleria dei Bomber Amaranto, c'è spazio anche per il talento di Ancona. Tre gol in 90 minuti, tre gol per entrare nella storia dalla porta principale. D'accordo nell'immaginario collettivo, le triplette realizzate da Insigne e Vigiani, protagonisti delle vittorie ottenute in passato contro Cosenza e Catania, hanno un peso specifico differente vista la portata dell'avversario, ma il tris di Bramucci resterà comunque negli annali. L'attaccante tascabile bussa tre volte e lui, l'eroe della domenica, e lui ad asfaltare un roccella che dal granillo esce con le ossa rotte. La figuraccia dell'andata è un ricordo lontano. La vendetta è servita, come certifica il selfie che immortale i calciatori Amaranto a fine gara. Una gara senza storia. La superiorità della bendicozza è schiacciante e va oltre il 3-0 finale. Il roccella stavolta gioca a fare da comparsa. La scena è tutta per la regina, che all'appuntamento si presenta senza maesano e zampaglione squalificati. Assenze pesanti queste, ma che non condizionano una squadra che ormai gioca col pilota automatico. La regina ci mette 18 minuti appena per chiudere la pratica roccella. Ci pensa Bramucci ad aprire le danze su assist del solito Oggiano. Ed è sempre il giovane attaccante a mettere in ghiaccio la gara 90 secondi dopo e grazie a questo buco clamoroso della difesa ospite. Due gol in un'amen e a rivederci roccella, anche perché la regina ha fame arretrata, ha voglia di vendicare la sconfitta dello scorso settembre e non si limita a contenere. Anzi, spinge, costringendo alle corde gli avversari. Il pressing amaranto è da togliere il respiro. Lavrendi e Roselli sradicano palloni, sfornano assist e siccome anche Oggiano e Cane sono abbastanza ispirati, per il roccella di Galati l'esordio al granillo si trasforma presto in un vero e proprio incubo e quando Bramucci ad inizio ripresa cala il tris, sfruttando l'ennesima invenzione di Capitano Lavrendi, capisci che nulla potrà rimettere in partita un roccella frastornato e che rischia addirittura la goleada. Sì perché la regina non ha nessuna intenzione di alzare il piede dall'acceleratore Bramucci e Oggiano sono imprendibili per la difesa ospite e allora tocca a Mittica disinnescare così l'attacco amaranto del roccella. Non c'è traccia e quando in pieno recupero Oggiano tira fuori dal cilindro una giocata da PlayStation regalando a Bramucci l'occasione per uno storico poker, il granillo per poco non viene giù. Il colpo di testa del numero 7 tuttavia dà solo l'illusione del gol ma strappa comunque gli applausi convinti degli infreddoliti tifosi amaranto e l'ultima emozione di una partita perfetta e che conferma i progressi di una regina pronta adesso a lanciare l'assalto alla vetta del campionato. Frattese, Cavese e Siracusa prendono appunti. Questa regina al suo decimo risultato utile consecutivo non ha nessuna intenzione di accontentarsi di un posto nei playoff.